Il libro della Nazionale, Mocchi di Gennaro, un commento sulla partita? Dai, è stata una partita, diciamo, le abbiamo create subito, avevamo un palaverde strapieno e quindi diciamo che ci ha dato quella marcia in più per affrontare questa partita e siamo state molto brave, essere aggressive subito e concentrate e abbiamo portato a casa il risultato. Ti aspettavi una piacenza così? Ma sì, dai, non lo so, penso che giovedì sarà un'altra partita e lo sappiamo, noi siamo pronti, siamo cariche, comunque ci stiamo giocando uno scudetto, siamo in finale e siamo pronti a tutto. In assenza di Easy comunque abbiamo visto un Imoco che non sente la mancanza? Eh, diciamo, sfortunatamente lei, diciamo, dai quarti che non c'è per questo problema, speriamo lo risolva, per lei, che dire, comunque siamo qui per lottare uno scudetto, quindi ognuno dà il suo e anche di più e niente, brave a tutte. Riesce a prendere fiato, finite le finali e parti subito o...? Non lo so, vediamo. Ci fai un saluto a Pallavolissimo? Sì, ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!